Sarà una delegazione ristretta a recarsi il 3 ottobre a Roma all'incontro con il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri e composta dal sindaco Beppino Ranalli, dal presidente dell'ordine forense Gabriele Tedeschi, dall'avvocato Elisabetta Bianchi, rappresentanza dei legali che fino a qualche giorno fa erano in sciopero della fame e dai senatori Stefania Pezzopane, Paola Pelino, Enza Blundo ed Enrico Buemi. Ci sarà inoltre l'esponente di governo abruzzese Giovanni Legnini. L'ho ufficializzato il comitato permanente per la salvaguardia del tribunale di Sulmona, riunitosi oggi nell'aula consigliare del comune in vista dell'importante appuntamento di giovedì prossimo. Abbiamo predisposto un po' i punti della relazione da fare e della documentazione da portare e quindi speriamo di ricevere buone notizie da parte del ministro. Quale sarà la linea di difesa per far prevalere appunto le ragioni del tribunale? Sicuramente un discorso geografico del territorio su una parte dell'abruzzo importante che rischia di essere tagliato fuori dalla geografia giudisiaria, le distanze dei paesi più lontani fino all'Aquila ma soprattutto un presidio è quello della giustizia che insieme a quello del supercarcere di Sulmona non può essere assolutamente allentato. La propria presenza del supercarcere è un pezzo sia la molla che possa far rimanere qui il tribunale di Sulmona. Incidere sulla posizione geografica e sulla presenza del carcere, senatrice Pezzopane, secondo lei questi possono essere veramente i punti forza per avere ragione sulla questione tribunale? Sì, sono due punti effettivamente distintivi della situazione del tribunale di Sulmona che differenzia questo tribunale anche da altri che analogamente al tribunale di Sulmona chiedono di essere salvati. Poiché non si possono salvare tutti i tribunali perché alcuni hanno effettivamente una condizione di sottolavoro e di scarsa distanza dalle sedi principali, credo che su Sulmona possiamo fare una battaglia incisiva. In più parlo d'Aquilana, l'Aquila ha miliardi di problemi in questo momento. Tra l'altro sul tribunale dell'Aquila c'è un carico di lavoro aggiuntivo legato purtroppo alla grave emergenza sociale ed economica che ha aumentato il contenzioso e alle cause legate alla ricostruzione. L'Aquila oggi non ha bisogno di carichi di lavoro che vengano dal tribunale di Sulmona. Noi preferiremmo che Sulmona si salvasse. Tra le altre richieste c'è quella di invitare sul territorio la Commissione Giustizia, recandosi però non con le auto blu è stato sottolineato ma con mezzi normali per rendersi conto di persona delle reali difficoltà legate alle distanze chilometriche. Le vicende politiche nazionali non bloccheranno l'incontro, non ci fermeremo nemmeno di fronte alla crisi di governo, ha detto l'avvocato Elisabetta Bianchi che ha aggiunto, non ci interessa se il ministro ci sarà o meno ma sarà comunque importante avere un interlocutore, posizione condivisa da Ivana Giardino della RSU CGL in quanto è noto, ha affermato, che il ministro non ha potere visto che le decisioni vengono prese da altri burocrati che si trovano sempre dentro il ministero. L'auspicio è così quello di trovare un interlocutore efficace. Diversamente ha affermato inoltre l'avvocato Bianchi siamo pronti a mettere in atto un'altra forma di protesta eclatante, questa volta però senza preavviso. Nell'incontro odierno è emersa l'assenza della maggior parte dei comuni ed anche degli stessi avvocati. L'auspicio di avere un'adesione più massiccia è stato purtroppo disatteso.